Riempie il cuore vedere questi ragazzi, bambini che si divertono su un campo di pallone, è una delle cose più belle che c'è. Il copatron della Salernitana, Marco Mezzaroma, ha preso parte nel pomeriggio all'open day della scuola calcio del club. Iniziativa con i più piccoli al campo Volpe ha la presenza anche del direttore sportivo della società Granata, Angelo Fabiani, e dei calciatori Milan Giuric e Raffaele Puccino. Lo sguardo della Salernitana è rivolto alla sfida contro il Lecce. Domenica alle 21 la gara al Via del Mare dopo il punto ottenuto al debutto contro il Palermo. Da parte del presidente Mezzaroma c'è la certezza di aver firmato un buon mercato per competere in una Serie B che resta equilibrata. Quest'anno sarà a tema un campionato molto molto difficile e anche molto equilibrato. Insomma tutti i pareggi della prima giornata lo testimoniano. Quindi un punto contro il Palermo io lo considero un buon punto. Detto questo noi riteniamo di aver allestito una rosa che possa competere ad alto livello. Poi naturalmente il campo, quello che darà il verdetto, noi speriamo che sia positivo. Le attese del centenario e gli obiettivi stagionali hanno regalato un ritrovato entusiasmo. Devo dire che c'è un bel clima, c'è molto entusiasmo, c'è molta vicinanza alla squadra, è la cosa che più mi fa piacere. Adesso sta a loro dimostrare sul campo di meritare questa fiducia.